David, hai già ricominciato ad allenarti con la squadra e il primo allenamento qua a Bormio, che sensazioni hai? E anche la prima settimana che hai trascorso insieme alla nuova squadra, stai conoscendo i tuoi compagni, che idea ti sei fatta di loro? No, è un buon gruppo di ragazzi, credo che abbiamo buon divertimento, tutti giocano, Sean è un buon capitano, credo che ha un buon liderazio con tutti, coinvolge tutti in ogni tipo di aspetto del gioco, quindi è stato abbastanza facile conoscere questi ragazzi e conoscere con loro e spero di un lungo anno con loro. Tanti giocatori nazionali, sei curioso di conoscerli, perché stanno facendo bene, l'Italia è uscita, ma la Macedonia, la Grecia, la Lituania sono dentro, vedrai un po' di partite. Siamo guardando un paio di gioco in un hotel, quindi è divertente vedere i ragazzi con cui stiamo spiegando sulle tv, spiegando i loro gioco, spero di vincere la championship, è sempre divertente e spero di quando li incontriamo e inizio a conoscere i loro personalmente, quindi è buono vedere i ragazzi e di vedere bene. Tornerà fra poco anche Simone Pianigiani, che ricordo hai di lui in quel 2003-2004? Vogliamo tranquillizzare i tifosi? Questa è l'ultima intervista in inglese? Non come Sean? Sean, come Michael Schumacher, capitano di Siena da tanti anni, anche lui, anche Schumacher, la Ferrari, non ho mai parlato di italiano. Ah, davvero? Non ho capito, sì, ma non è una cosa buona, ma è difficile parlare in fronte di una camera, non è mai facile, parlare in una seconda lingua è ancora più difficile, ma per me, credo che, dopo un po' di tempo, potrei parlare in inglese con l'intervista italiano. Grazie a tutti.